La mia... come posso dire? Non nemmeno le parole in italiano però insomma si è distrutto Questa è RideZitta Luca si diverte Buon ascolto Questo è un pezzo che sta nell'EP come il primo Quindi se questi due vi fanno care aspettate il prossimo disco Perché questo l'avete appena sentito non in EP Vai ragazzi, mi affitto a voi Vanno a arrivare il film Caderci e poi, rialzarsi e poi Caderci Non fa per noi Non fa per noi Questa sorta Che ho visto assai Che ho visto assai E' più triste al solito mai Non fa per noi Non fa per noi Vicini e poi Distanti e poi Le mani Sono per noi Sono per noi In diversa futilità Che ho visto assai Che ho visto assai Più felice al solito mai Questo è per noi Questo è per noi Non so perché Da un giorno all'altro Sono scomparso Chiamami Scemo 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 Non so perché Da un giorno all'altro Sono scomparso Chiamami Scemo 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 Grazie a tutti